Allora Attila signore e signori ha conquistato la platea di tutta la Sicilia è un cavallo straordinariamente bello e sapete perché? perché è un cavallo che effettua delle figure in questo momento sta seguendo un bellissimo piaffè ma soprattutto è un frisone sull'altro cavallo c'è Marica Manzella signori siamo quasi pronti per la finalissima quasi pronti per la finalissima spettacolo finale quasi pronti per la finalissima signore e signori e intanto Alessandro fa sdraiare il suo cavallo Marica Manzella signore e signori adesso vedrete cosa è capace di fare Attila guardate che bello signore e signori della scuderia Kankeshi e segue delle figure in piaffè che meraviglia signore e signori un bellissimo piaffè apriamo la transenna Attila merita il centro di questo campo Attila 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 della scuderia Kankeshi signore e signori guardate in piaffè che meraviglia è una figura straordinaria è un cavallo addestrato in alta scuola dal maestro in arte equestre Antonino Kankeshi è un cavallo addestrato è un cavallo è un cavallo molto speciale è un cavallo molto particolare ha conquistato le piazze le piazze di tutta la Sicilia signore e signori un applauso per Attila in campo e intanto arriva anche Marika Mansella Marika Mansella e Mario Pistorio con un bellissimo appaluso un appaluso che saluta la gradinata che bello Marika Mansella Marika Mansella Marika Mansella e Nino Kankeshi insieme sul cumo guardate che figura vinci straordinaria straordinaria hanno conquistato hanno conquistato le piazze di tutta la Sicilia sono due cavalli bellissimi Mario Pistorio ha un appaluso l'appaluso veniva usato dagli antichi indiani d'America i nasi bucati l'appaluso è il cavallo che si trova ai porti del campo mentre Nino Kankeshi e Marika signori stanno eseguendo una figura straordinaria stanno al cospetto di questo pubblico meraviglioso il pubblico di Kankamo e eseguendo una figura con due stalloni di prisone signori noi vi diciamo immediatamente che due prisoni ognuno di loro essendo maschi signori guardate Nino e Marika insieme attenzione alziamo a questo punto la musica diamo la scena ad Attila diamo la scena ad Attila perché Attila sta per fare una cosa importante signori l'impennata è l'unico frisone che impenna camminando guardate cos'è capace di fare attenzione attenzione si prepara si prepara l'impennata di Attila si prepara l'impennata di Attila signore e signori che meraviglia straordinario 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 meraviglioso incredibile bellissimo signore e signori bellissimo Nino Nino sei stato un grande meraviglioso meraviglioso Nino meraviglioso KKC sei stato veramente un grande bellissimo l'unico frisone capace di impennare signore e signori Nino ancora l'ultima volta signori l'ultima volta Nino ci riprova di nuovo ci regala questo spettacolo alziamo la musica per Attila vai bellissimo grazie Rino grazie davvero grazie per averci regalato questo spettacolo